Io sono Andrea Di Cara, gruppo 1 di qualificazione di Trianga Games, in data 26 ottobre Italia 2016. Vediamo la lista. Non c'è la yemekionella, dentro 5ppt. Grazie a tutti. 3, 2, 1, vai! 4, 2, 1, vai! 4, 2, 1, vai! 5, 2, 1, vai! 5, 2, 1, vai! 5, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 5, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 4, 5, 6, 7! 5, 6, 7! 5, 6, 7! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 4, 5, 6, 7! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 1, vai! 1, vai! 1, vai! 2, vai! andrea 5.37 siamo al 5.37 vai 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 6 minuti 6 minuti Andrea forza Andrea tutto Andrea tutta Andrea tutta Andrea forza Andrea tutta Andrea è finito 20 secondi forza Andrea 30 secondi mancano 30 secondi forza Andrea forza Andrea dai 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 10 secondi dai 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 5 4 3 2 1 stop no 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 hai un minuto lo so 30 secondi 30 secondi 20 secondi 10 5 4 3 2 1 vai 4 5 forza Andrea lascialo sulle spalle vai bravo 8 8 9 respira, non te ne andate non te ne andate, bravo Andrea 9 ne hai fatti, respira bene 10 secondi e se riparto 50 secondi forza Andrea non ci pensare troppo, vai 10 e sta avanti 11 vai Andrea 12 vai 13 respira pronto che devi ripartire sono 20 secondi andano lavorando dai 13 30 secondi Andrea vai 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 non lo posare più non lo posare più vai 14 vai 15 15 casomai poncelo sulle spalle vai 16 forza Andrea supera il tuo record vai ormai 20 17 10 secondi vai forza forza Andrea vai vai 18 forza che c'è un'altra 3 secondi vai stop va bene buono stop stop stop